Un sopralluogo presso lo stabile di via Leonardo da Vinci a Cireggio per incontrare gli inquilini e verificare la situazione. È stato fatto dal presidente di ATCP a Monte Nord, Marco Marchioni, e dagli assessori Maurizio Cerutti e Franco Gemelli. Lo stabile sarebbe dovuto essere sistemato con il bonus 110, ma la gara d'appalto per i lavori è andata deserta e così l'attesa riqualificazione non c'è stata. Il dato positivo emerso in sede di presentazione del progetto è che comunque le necessarie verifiche tecniche eseguite hanno evidenziato che l'edificio strutturalmente è a posto e non presenta situazioni preoccupanti di stabilità. Le criticità invece riguardano la sua parte esterna, con muri con pezzi di intonaco che cadono a terra, muretti dei balconi che si trasformano in contenitori d'acqua ogni qualvolta piove più del normale. Tutto questo, sommato dai serramenti ormai vetusti, creano dei disagi in alcuni appartamenti al cui decoro devono provvedere gli inquilini. Marchioni si è impegnata a verificare le possibilità esistenti per finanziare il progetto di risanamento già approvato. Altro argomento emerso durante l'incontro è stato quello del passaggio pedonale di fronte allo stabile, che si pensava pubblico ma che invece, dopo una verifica presso l'ufficio tecnico con un ale, così non è. Da qui la possibilità di riservare l'accesso sull'inquilini, dotando il cancello d'accesso di apposita serratura.